E a proposito di autonomia, è in programma nella serata di domani il voto del Senato per l'approvazione delle nuove norme di salvaguardia della minoranza ladina. Intanto il comune di Canazzei rilancia il progetto di un'unica grande provincia autonoma di tutti i ladini dell'area dolomitica. Un sogno per molti, una provocazione per altri. Gianfranco Benincasa. Dalla Catalogna al gruppo del Sella. Il vento indipendentista soffia dalla Spagna verso il Trentino dopo che il comune di Canazzei con una clamorosa votazione ha chiesto la nascita della provincia autonoma ladina. Il sindaco Silvano Parmesani dice che non c'è nessuno strappo, anzi parla di volontà di unire, di dare maggiore peso ai ladini. Non è una fuga dalle province la nostra, è solo una volontà di rimetterci assieme e di riproporre questa riunione sotto un'unica campana dei ladini. Questo vorrei sia chiaro. Il primo cittadino poi sottolinea che non è stato approvato nessun statuto sulla nuova entità. Non è ancora stato approvato nessuno statuto, per ora abbiamo fatto come dico questo primo passaggio che poi andrà evidentemente negli altri consigli comunali ladini, nei quali si tratterà e vediamo un po' come anche loro la vedono, ma io sono fiducioso che venne appreso positivamente questa nostra proposta. L'idea di unificare tutti i ladini di 19 comuni attorno al gruppo del Sella è piaciuta poco invece alle minoranze che hanno lasciato l'aula estere fatte. Rischioso dicono al telefono, ma non davanti alla telecamera, tanto più in questo momento storico, in questi giorni di tensione in Spagna. Chi invece da sempre crede nell'autonomia ladina è Emilio Talmon che rilancia l'idea del referendum per la gestione totale del territorio. Per fortuna anche il comune di Canassei ha avuto il buon senso di riprendere in mano questa politica per la provincia ladina e noi siamo del parere che sarà dopo con un referendum perché è il popolo che deve decidere, non sono i politici che devono decidere il nostro avvenire.